Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sul piano cartesiano oggi andremo a vedere le rette passanti per l'origine. Nella lezione precedente abbiamo studiato l'equazione delle rette che fossero le rette o all'asse delle ascisse o le ordinate. Oggi vediamo le rette passanti per l'origine. Lo scopo della lezione di oggi, soprattutto di quello che faremo in classe, è essere in grado di dire la retta passante per l'origine data la sua equazione, fare il coefficiente retta, in particolare che cos'è questo coefficiente colare e infine determinare l'equazione di una retta passante per l'origine. Per capire meglio però di cosa stiamo parlando quando si tratta di rette passanti per l'origine facciamo un piccolo passo indietro e andiamo a trattare un argomento visto nella matematica del secondo anno. Consideriamo la relazione tra il numero di spettatori in un cinema e l'incasso del cinema stesso. Cioè facciamo una tabellina in cui vediamo per varie possibilità nel numero di spettatori l'incasso di quel cinema. Quindi se ci sono spettatori c'è zero incasso, se ci sono spettatori abbiamo 120 euro di incasso, per 20 spettatori 240 e così via per 100 spettatori abbiamo 1200 euro di incasso. Ora già guardando questi numeri, è stata bella, uno può immediatamente farsi un'idea dell'amento di questi numeri, della relazione che c'è tra queste due serie di numeri. Però il modo migliore per interpretare due serie di dati collegati tra loro è rappresentarli graficamente. Quindi noi andremo a fare un grafico cartesiano. Come vedete qui mi sono già preparato, ecco un grafico cartesiano in cui nell'asse delle X andrò a riportare il numero di spettatori, quindi se sono 10, 20, 30 eccetera eccetera, 50 fino a 100 e nell'asse delle Y l'incasso in euro del cinema. Quindi se è incasso a 220 euro, 240 eccetera eccetera fino a 1200 euro. E cominciamo quindi a rappresentare i nostri dati, come vedete ho già messo il dato corrispondente a 0 spettatori, per 10 spettatori avevamo 120 euro, eccole qua, per 20 spettatori avevamo 240, per 30 avevamo 360 euro, per 4 spettatori 480, per 50 spettatori avevamo 600 euro e a questo punto possiamo andare direttamente all'ultimo dato disponibile nella nostra tabella, ovvero per 100 euro abbiamo 1000 e per 100 spettatori abbiamo 1200 euro di incasso. Ecco, come vedete rappresentando graficamente la nostra tabella diventa molto più evidente l'andamento di questi dati, si vede come i nostri punti vanno a formare una linea retta, ma a questo punto perché non andiamo direttamente a disegnare. Quindi abbiamo posizionato il nostro righello e quindi possiamo unire i nostri punti e si vede come appunto formiamo una linea retta, che in teoria possiamo anche prolungare, no? Possiamo assumere che per un numero maggiore di spettatori l'andamento seguirà comunque quello che abbiamo visto finora. Ora, cosa significa il risultato che abbiamo appena ottenuto? L'incasso cinema e i numeri spettatori sono quelle che noi chiamavamo l'anno scorso due grazie direttamente proporzionali. Qui vediamo le grazie più y e x che si dicono direttamente proporzionali quando il rapporto tra due valori corrispondenti è costante. Cosa significa due valori corrispondenti. Per esempio, l'incasso spettatori. Questo rapporto possiamo facilmente vedere che è lo stesso rapporto che abbiamo quando abbiamo 20 spettatori e incassiamo 240 euro, oppure abbiamo 30 spettatori e 360 euro e via via fino all'ultimo che abbiamo considerato di 100 spettatori e 1200 euro. In tutti questi casi il rapporto prezzo del bilancio, scusatemi, incasso del bilancio, numero di spettatori uguale a numero 12 che chiaramente cosa rappresenterà? Rappresenterà il prezzo del bilancio, cioè quello che ogni singolo spettatore, chiaramente stiamo considerando il caso in cui non ci siano riduzioni, ogni singolo spettatore deve avere per assistere allo spettacolo. Questo numero è quello che viene chiamato la costante di proporzionalità, cioè questo valore costante tra i valori corrispondenti due grandezze proporzionali. Ma se noi andiamo a vedere cosa significa dal punto di vista della retta che abbiamo disegnato poco fa, possiamo dire che questo valore, questo 12, rappresenta una grandezza molto importante, rappresenta quello che noi chiameremo la pendenza della retta, cioè mi dice quanto questa retta appunto è inclinata. In realtà come poi, secondo un termine che introdurremo tra poco, questa pendenza viene anche chiamata, anzi più comunemente chiamata, il coefficiente angolare, cioè proprio perché mi dà l'idea dell'aio formato da queste agli assi cartesiani. Vediamo di generalizzare il risultato che abbiamo ottenuto nel caso precedente per grandezze rettamente proporzionali e vediamo che torniamo veramente all'argomento delle rette passanti per lui. Intanto ho allargato il mio campo visuale perché prima il primo quadrante, quindi rappresenta positive, ora abbiamo tutte passanti per lui. Vediamo che cosa significa, perché queste tre rette sono diverse, in che modo. Cominciamo con questa retta qui, ora noi sappiamo che questo può rappresentare delle grandezze tra loro direttamente proporzionali, quindi per le quali il rapporto tra valori corrispondenti è costante, quindi io considero due valori qualsiasi, per esempio per un valore per la prima retta, questa qui, per un valore della x uguale a 2 vedo la y uguale a 1, quindi io vado a scrivermi quindi y uguale a 1 diviso x uguale a 2 e so che questo rapporto per la x e la y corrispondente rimarrà costante, è quello che succede per le grandezze rettamente proporzionali. È vero anche se vado a considerare la parte che è qui nel terzo quadrante, per esempio per x uguale a meno 2, quindi lo scrivo qua sotto, x uguale a meno 2, cosa vedo? Vedo che la y è uguale a meno 1, ma chiaramente meno 1 diviso meno 2 è la stessa cosa dire 1 fratto 2 e questo rappresenta quindi la stessa costante di questa retta. Quello che vi ho già accennato è una grandezza nota come coefficiente angolare, se la vogliamo scrivere come decimale questo sarà 0,5. Consideriamo ora invece la retta centrale. Di nuovo considero una coppia qualunque di valori corrispondenti, per esempio qui per x uguale a 1 vedo che la y corrispondente è sempre uguale a 1 e di nuovo posso ripetere il giochino anche per i valori negativi. Ora in questo caso è facile perché 1 diviso 1 fa 1 e quindi questo è il coefficiente angolare di questa retta qui. Concludi per l'origine passante per il primo e per il terzo quadrante. Qui vedo invece che per una x uguale a 1 la y corrispondente è uguale a 3. Se vado a scrivere il nostro rapporto e di nuovo questo non dipende dalla coppia che sto scegliendo perché sappiamo grandezze direttamente proporzionali, questo rapporto rimarrà costante in questo caso viene 3 fratto 1, cioè 3. E qui notiamo una cosa molto interessante che, vabbè, in maniera non sorprendente il coefficiente angolare di queste tre rette è diverso, ma in che misura è diverso? È diverso nel senso che man mano che vado a considerare delle rette con una pendenza maggiore, delle rette che sono via via più ripide, questo valore aumenta, no? È uguale a un mezzo, cioè 0,5 per la retta con la pendenza minore, è uguale a 1 per questa retta centrale, è uguale a 3 per questa retta qui. Quindi presumibilmente chiaramente un valore del coefficiente angolare uguale a 4, 5, 100 e via via, corrisponderà a delle pendenze sempre più accentuate e viceversa dei valori sempre più vicini allo 0, dove lo 0 rappresenterà che cosa? Rappresenterà una retta coincidente con l'asse delle x, ecco, rappresenterà delle rette, dicevo, sempre più, sempre con una pendenza sempre più dolce. Ecco, generalizzando il risultato che abbiamo ottenuto nel caso del precedente, cosa significa allora la retta che si passa per l'origine ma in questo caso passi per il secondo? Beh, possiamo applicare lo stesso ragionamento. Di nuovo noi sappiamo che questo rappresenta una serie di grandezze direttamente proporzionali. Di nuovo sappiamo che il rapporto tra voleri e corrispondenti sarà uguale e che sarà uguale a quello che noi chiamiamo appunto la pendenza o il coefficiente angolare. Andiamola a calcolare, consideriamo ad esempio di nuovo cosa succede se la x è uguale a 1, quindi disegno la mia linea frazione, scrivo sotto uguale a 1 e qual è il valore della y corrispondente? In questo caso devo andare verso il basso, verso le y negative e vedo che è uguale a meno 2 e di nuovo questo non dipende dalla particolare coppia che scelgo perché appunto il suo rapporto è costante. E cosa mi viene fuori? Mi viene fuori che la pendenza è negativa. Quindi possiamo a questo punto trarre delle conclusioni riguardo a questo valore del coefficiente angolare per le rette passanti per l'origine. Ecco, quando ho una retta passante dall'origine la sua equazione sarà di questo tipo, sarà data da y uguale m per x, dove m appunto è questo rapporto, questa pendenza della retta o quello che noi chiamiamo il coefficiente angolare. E cosa mi dirà? Che se m è positivo la retta passerà per il primo e il terzo quadrante e tanto più grande sarà m, tanto maggiore sarà la pendenza della retta, cioè tanto più si avvicinerà all'asse delle y, come pendenza. Viceversa, se m è negativo, noi avremo una retta che passerà dal secondo e dal quarto quadrante, ma avremo la stessa caratteristica, cioè tanto più è negativo, ovvero il valore assoluto di m ande, tanto più la mia retta tenderà a essere verticale e tanto più sarà vicina allo zero, tanto più la mia retta tenderà orizzontale. A questo punto nella prossima lezione saremo in grado di vedere l'equazione di qualsiasi, quindi una retta che non sia né parallela agli assi dall'origine, ma per oggi è tutto. Arrivederci a posto.